Scusa, lei come si chiama? Lorenza. Gianfranco. E lei come si chiama? Mi chiamo Hamdeia. Potete chiamarmi Dini, se dimenticato. E' più facile. Ana Cuneti e'maninu e'mieselim di pio' ridale, E' più facile. E' più facile e che errate, E' più facile, Ana Cuneti e aminu e'mieselim di pio' ridale, E' più facile. E' un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? E' un po' che c'è? E' un po' che c'è un po' che c'è? E' un po' che c'è un po' che c'è? E' 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 un po' che c'è?